E' una grossa soddisfazione, veramente. Credevo di emozionarmi meno questa volta, perché è un pochino, diciamo, la volta scorsa, però mi sono emozionata forse anche di più. E poi, insomma, veramente, è veramente un grosso privilegio. Io lo ritengo un privilegio fare questa cosa, perché mi dà soddisfazione e mi riempie di gioia, veramente. In questo caso usiamo lo stampatello romano, che è classico, è una scrittura pulita, molto leggibile. Per le scritture ci vuole un po' di precisione, di conseguenza bisogna tracciare le righe, che sono la cosa essenziale, perché se le righe non sono diritte, sono quelle che più saltano all'occhio. Quindi penso che per scrivere la cosa essenziale sia la precisione. E poi, naturalmente, ci vuole un po' di manualità, ecco. Poi, più se ne fa, generalmente è meglio, migliore è il risultato. In fondo è come un disegno, un piccolo disegno, perché tra le righe e tutte le lettere sono un po' come tanti disegnini, ecco. Penso che si possa imparare. Certo, un po' di attitudine penso che ci voglia. Penso che si possa imparare.